Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha varato la giunta, rispettato il criterio dei più votati. Nell'esecutivo Andrea Cardinali, che sarà anche vice sindaco, Loredana Dragani, Tania Travaglini e Claudio Spinozzi. Per la prima volta a Montenero la quota rosa è prevalente. La Contucci ha trattenuto per sé i lavori pubblici, lo sport e la protezione civile. A Cardinali, urbanistica, patrimonio, demanio e politiche scolastiche, Travaglini si occuperà di politiche sociali, agricoltura, pari opportunità e politiche giovanili. A Loredana Dragani, attività produttive, turismo, politiche comunitarie, viabilità e trasporti. Per Claudio Spinozzi, personale, bilancio e programmazione. Impegno formalizzato anche per i consiglieri comunali fuori dall'esecutivo, deleghe anche per loro. Fiorenza del Borrello ha lavoro su ambienti e affari legali. Antonio Potalivo si occuperà di manutenzione verde pubblico. La cultura, gli eventi e l'associazionismo a Cabiri e Calgione. Come noto da qualche giorno, Nicola Marraffino è il presidente del Consiglio Comunale. Abbiamo definito la squadra di governo del nostro paese, ha dichiarato il sindaco Simona Contucci, che è stata composta sia sulla base del consenso elettorale che tenendo conto delle predisposizioni, delle qualità, della professionalità e delle competenze di ogni singolo eletto. Coinvolti tutti i consiglieri comunali di maggioranza nell'amministrazione attiva del territorio. Il sindaco esprime riconoscenza anche nei confronti dei candidati della sua lista non eletti. Ringrazio di cuore, ha detto, Susanna Del Gesso, Franco Mancinelli e Francesco Borgia per il loro prezioso supporto. Adesso è arrivato per noi il momento, ha concluso la Contucci, di prenderci cura a pieno regime di Montenero e dei Monteneresi.